Una morte annunciata la definisce così la chiusura del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Battipaglia, la sindaca Cecilia Francese. In media, presso il polo nascita cittadino, vengono alla luce oltre mille neonati all'anno. Una cifra che tende a salire proprio nei mesi estivi, quando il Santa Maria della Speranza diviene punto di riferimento anche delle donne in attesa che si trovano in vacanza. A nulla, purtroppo, sono servite le numerose segnalazioni affinché non chiudesse in questo periodo. Sa perché sono arrabbiata? Perché questa è una morte annunciata. Cioè, a parte, e io ho inviato espressamente, condiviso con i colleghi dell'ospedale, una relazione a Iervolino già a gennaio del 2021, ma le mie battaglie, le mie critiche, attenzione alla chiusura della neonatologia, sono antecedenti, perché è tutto l'ospedale di Battipaglia che è in crisi, oltretutto anche ora quello di Eboli, proprio per la mancanza di personale. Arriviamo a questa protesta nel marzo, condivisa con i colleghi dell'ospedale, ma per quale motivo? Perché abbiamo deciso di tirare l'attenzione della stamba. Pensavamo che qualcosa si smuovesse a livello di direzione regionale, a livello di regione. Perché noi avevamo annunciato, c'è proprio il dottore Auriemma, che io ho riproposto la sua, l'avete, mi pare, intervistata anche voi, ho riproposto la sua, ma anche la mia. Attenzione, perché siamo a rischio chiusura, perché sapevamo che c'era una collega della TIN che andava in pensione. La TIN era mantenuta grazie al supporto di due neonatologi che venivano da Nocera e dal Monaldi. Più volte lo stesso Iervolino aveva assicurato che avrebbe preso questi due neonatologi, due neonatologi che hanno vinto il concorso ad Avellino e che sono di battipaglia disponibili a venire e che sono stati presi al Policlinico. Avevamo detto di fare una delibera, di fare in modo che questi due neonatologi venissero prima della crisi. Che succede? Che agosto la gente va in ferie, Monaldi e Nocera non riescono più a garantirci in questi periodi, sono rimasti in tre invece di quattro e giustamente le colleghe non possono reggere i turdi. Per cui dei partorienti, i gravidi a rischio al di sotto della 35 settimana, i prematuri che nascono al di sotto devono andare altrove. Ma è inutile che il Volpe dà la rassicurazione di quello che succede, perché voglio dire, noi abbiamo detto, data la mano, io più volte, e ciò anche interloquito con Iervolino, mi aveva promesso, e non ti preoccupare che arrivano due. Ma se arrivano due specializzanti, vanno bene pure, ma non vanno bene per tenere aperta questa cosa. Dopo l'estate, di nuovo, si riaprirà, perché ovviamente riavremo il problema che questi hanno finito le ferie, giustamente devono andare in ferie, però il problema rimane. Quindi quello che chiedo è di mettere non due specializzanti, ma di fare in modo che due strutturati che siano in grado, in emergenza, di intubare un bimbo di 30 settimane, e quindi senza niente retogli dagli specializzanti la soluzione ci sta.